Una delle novità che sono emerse nell'ultima direzione provinciale del PD è stata l'ingresso nella segreteria della coordinatrice delle donne del PD Rosida Baia, un ingresso che apre anche nuovi scenari per un dibattito interno al partito. Certo, infatti è una cosa abbastanza importante per chi viene riconosciuta la rappresentante di genere e fortunatamente finalmente il riconoscimento pieno della capacità delle donne di interpretare a pieno la società di oggi, di poter dare un contributo fattivo alla politica, al PD in provincia di Caserta, alla politica in genere, ma anche nel mondo del lavoro, all'economia. Praticamente viene riconosciuto finalmente con, secondo me, un grande passo avanti che fa il PD di Caserta in questo momento, questa possibilità che le donne possano entrare a pieno nella vita politica e possano in qualche modo contribuire pienamente alla rinascita, alla costruzione e allo sviluppo del PD. Più in generale l'ultima direzione è riuscita a rilanciare il partito, ad avviare un percorso di maggiore coesione interna? Io credo che dalle parole del segretario, nella relazione del segretario, sia stato annunciato chiaramente questa volontà. Quindi la volontà di rimettere insieme il partito affinché possa finalmente e pienamente rappresentare i bisogni della società e di tutti i territori in cui il PD è abbastanza radicato.